E' stata appena presentata la ricerca La città degli orti, il primo censimento sugli orti urbani nella città metropolitana di Milano. Che dati emergono? Emerge una grande estensione di orti, sono circa 8 milioni e mezzo di metri quadri complessivi tra orti veri e propri e spazi recintati che sono grandi giardini. In questa estensione dagli orti più piccolini a grandi giardini c'è veramente un mondo, c'è il riflesso di una città e di questi possiamo dire che 2 milioni e 700 mila metri quadri sono di veri e propri orti coltivati. Tutta la quantità restante è di giardini, aree a volte anche utilizzate per imprese, di deposito, a volte anche spazi un po' negletti o degradati. Complessivamente però, il dato che emerge non è tanto solo quantitativo ma è, diciamo così, topologico. Dove stanno questi orti? Beh, stanno veramente dappertutto ma stanno in città, questo è il dato essenziale. Stanno ai margini dei parchi, ai margini della campagna, laddove inizia la città, a volte sono completamente inclusi nella città. Quindi, li abbiamo chiamati spesso orti urbani, sono realmente orti urbani. Chi ne usufruisce in particolare? Allora, gli orti sono, come dire, nel nostro immaginario, gli orti italiani, sono utilizzati soprattutto da popolazione anziana, uomini e spesso provenienti dalle regioni di immigrazione, del dopoguerra, dove esisteva una tradizione agricola, quindi dal sud Italia, dalle isole e dal Veneto. Ora, è ancora così, è ancora abbastanza così, ma queste persone inevitabilmente sono anziane, iniziano a passare la gestione dei loro orti ai loro stessi familiari, ma anche a volte ad abbandonarli. E si assiste a un fenomeno di cambio, diciamo, generazionale, che è un cambio anche di tipologie di persone. Quindi cominciano ad esserci giovani, molte donne, famiglie, cominciano ad esserci di stranieri. Di stranieri, negli orti, in grandi città europee, sono la popolazione che prevale nella coltivazione degli orti, per le stesse ragioni che abbiamo detto. C'è la popolazione immigrata che aveva consuetudine con la coltivazione. E quindi questi piccoli segnali che noi abbiamo monitorato, facendo una campagna intensiva di sopralluoghi, è sicuramente un segnale interessante perché mostra come le cose stiano cambiando, come cambia la città, e come questo sia un fenomeno che può essere interpretato e anche governato. Quali sono le principali caratteristiche e differenze rispetto agli orti nel resto d'Europa? Possiamo dire che non c'è una città uguale a un'altra per come si profila dal punto di vista delle popolazioni insediata, della sua reale estensione, questo lo sappiamo un po' da urbanisti, da chi studia le città. Avendo osservato per la prima volta, in modo analitico, tutti gli orti della città metropolitana di Milano, questa ricerca non si concentra solo sulla città di Milano, ma coinvolge tutti i comuni della città metropolitana, ci siamo resi conto che le tipologie di orti sono le più diverse e che in particolare hanno una caratterizzazione, quelli nostri, molto legata alla produzione, benché la produzione non sia tantissima, cioè è circa metà di quello che produrrebbe un'azienda agricola sulla stessa estensione, però è importante produrre verdure, a volte i più bravi lo fanno anche d'inverno. A differenza dei paesi nordici, dove c'è un'enorme quantità di orti e giardini privati, grandi colonie, che hanno una funzione molto più legata al tempo libero, sono giardini, sono delle vere e proprie estensioni della casa. Non che in Italia e a Milano questa dimensione dell'estensione della casa non sia presente, ma è secondaria. Viceversa, la dimensione sociale abbiamo rilevato che è molto molto importante. O è organizzata a priori, perché sono le stesse amministrazioni, gli stessi parchi, che promuovono gli orti o colonie di orti come un motivo di aggregazione, come un servizio, oppure, molto spesso, le colonie che hanno un carattere spontaneo, si generano al di fuori di regole predeterminate, al di fuori di una conduzione pubblica del suolo, si auto-organizzano e diventano un fatto sociale di grande rilevanza, di auto-organizzazione, di inclusione, spesso di aiuto reciproco. Grazie a tutti.